Musica Sabato 13 maggio 2023, buonasera, benvenuti con l'informazione di Star News. Ancora un caso di maltrattamenti in famiglia in provincia di Catania. I carabinieri hanno arrestato un 48enne per le violenze perpetrate nei confronti dell'anziana madre e del marito di quest'ultima. Ma sentiamo questa assurda storia. Un 48enne è stato arrestato a seguito di indagini condotte dai carabinieri di Via Grande e rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza a Catania con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e distorsione nei confronti della madre settantenne e il marito coniugati da una ventina di anni circa. Le indagini hanno fatto luce sulle condotte abituali e reiterate poste in essere pericolosamente dall'uomo, spesso in breda ai fumi dell'alcol, nei confronti, come detto, della madre settantenne e del marito 83enne. La donna, sopraffatta dalle continue richieste di denaro del 48enne, la cui figlia di 10 anni le è stata affidata in custodia dopo la sua separazione, aveva sporto denuncia nei suoi confronti nello scorso mese di marzo per tutelare l'ingolumità dell'anziano marito, che nel giugno dello scorso anno, intervenuto in suo soccorso perché aggredita dal figlio, sarebbe stato da lui percorso e quindi costretto a ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Acireale. Fulcro delle pretese economiche del figlio, in particolare realizzate con continue telefonate sia di giorno che di notte, prendendo anche a calce e pugni il portone d'ingresso e con insulti e minacce di morte nei confronti della coppia, sarebbe stata la presunta vendita di un immobile di proprietà della madre e per tale motivo l'uomo avrebbe preteso l'elargizione di una somma di 10.000 euro, mentre sovente avrebbe avanzato continue richieste di denaro oscillanti tra i 50 e i 100 euro. Nel corso dell'attività investigativa, la settantenne ha confermato d'avere proceduto alla sottoscrizione di un preliminare di vendita dell'immobile, ma di non averla ancora perfezionata. Il figlio, come denunciato nel mese di aprile anche dall'83enne, ormai impaurito per l'escalation dell'aggressività manifestata, è emerso che avrebbe più volte afferrato la madre per il collo nel chiaro intento di strangolarla, nonché le avrebbe lanciato addosso mozziconi di sigaretta accesi addirittura sulla bambina, apostrofandola come prostituta. Violenze confermate anche dalla nuora della settantenne, che a volte per calmare l'uomo avrebbe elargito al cognato piccole somme di denaro. Adesso il 48enne, violento, è stato rinchiuso come detto in carcere. Vile aggressione la notte scorsa a Catania e danni di un turista. Un extra comunitario per rubargli il cellulare lo avrebbe scaraventato violentemente a terra facendogli battere la testa al suolo. Le condizioni del malcapitato sarebbero gravissime intanto e caccia all'uomo. Un turista polacco di 35 anni è stato gravemente ferito durante un tentativo di repina avvenuta a Catania. Il fatto è accaduto nella notte in piazza Stesicoro. Adesso si trova ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale Garibaldi Nesima. Ad indagare sono gli agenti della Polizia di Stato. Secondo una primissima ricostruzione dell'accaduto, il turista polacco sarebbe stato aggredito da un uomo, forse un extra comunitario, con lo scopo di portargli via il cellulare. Durante l'azione delittuosa dell'aggressore, il turista sarebbe caduto rovinosamente a terra sbattendo la testa al suolo, riportando un esteso trauma cranico. Sono stati alcuni passanti ad allertare i soccorsi e a giungere sul posto. Successivamente è stata un'ambulanza del 118 con il personale sanitario, che ha provveduto a soccorrere il malcapitato e a trasportarlo in codice rosso in ospedale, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni sarebbero considerate molto gravi sul fatto, come detto, sta indagando la Polizia con i poliziotti impegnati nell'ascoltare alcune testimonianze e nel visionare le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona al fine di individuare e fermare l'aggressore. I componenti del gruppo Voce di Paternò chiedono all'amministrazione comunale di avere chiarimenti sul futuro di due strutture comunali abbandonate e vandalizzate, Casa Coniglio e l'asilo nido di Corso Marco Polo. Al nostro microfono Luigi Stampa e Chiara Caruso. Luigi Stampa, Movimento Gruppo Politico Voce. Ecco, voi praticamente da tempo state attenzionando la situazione che riguardano due strutture pubbliche di Paternò che sono abbandonate, in sostanza stiamo parlando di Casa Coniglio e l'asilo nido di Corso Marco Polo. Ecco, qual è la denuncia che voi fate? Abbiamo già mandato un'istanza al comune di Paternò proprio per chiedere chiarimenti sulle condizioni riguardo Casa Coniglio e l'asilo nido che per chi non lo sapesse sono collocate in Corso Marco Polo all'angolo di Piemessina. Queste strutture possono essere utili alla società, al Paese stesso, ma purtroppo sono state abbandonate e anzi sono oggetto di atti vandalici. Per quanto riguarda l'asilo nido comunale, infatti, sono stati stanziati, secondo il programma per le opere pubbliche del 2021 e 2023, circa 2 milioni di euro e nonostante la struttura sia completa, anche grazie ad ulteriori fondi arrivati nella prima metà del 2021 dall'Unione Europea, di circa 200 mila euro, la struttura non è mai stata inaugurata, quindi è rimasta abbandonata a se stessa. Ecco, l'invito che voi fate qual è? Quello al sindaco, al comune di attenzionare meglio queste strutture, perché non sono strutture che sono inutili, sono molto importanti per il nostro Paese, Casa Coniglio e anche l'asilo nido principalmente hanno funzioni importanti per la nostra città e quindi di attenzionare meglio queste due opere pubbliche. Come mai questa particolare attenzione per quanto riguarda queste due strutture? Maggiormente perché, come diceva Luigi, sono due centri nevralgici della città. Casa Coniglio, come sappiamo, negli anni è stato un centro di urno per anziani e adesso è abbandonato all'incuria e al vandalismo. L'amministrazione ha dichiarato più volte di avere tra le mani un progetto attraverso il GAL Etna, che però non abbiamo saputo più nulla, effettivamente di cui non conosciamo nemmeno l'iter progettuale. Quindi quello che noi chiediamo con forza alla Giunta Comunale è di conoscere le effettive e sincere volontà attuative e in quale direzione si sta muovendo, sia in merito alla valorizzazione di Casa Coniglio, sia in merito all'asilo in corso Marco Polo. Ecco, ricordiamo che l'asilo ancora, come diceva Luigi, non è stato ancora inaugurato in sostanza, è già stato vandalizzato. No, perché infatti esistono dei fondi che però anche per le aree esterne all'asilo, grazie a un progetto di Next Generation EU, quindi sono fondi europei, che però appunto non sono stati, cioè lo stato d'arte dei lavori attualmente è fermo. Come gruppo voce, la proposta che fate? Per quanto riguarda il centro di urno di anziani, noi avevamo già parlato di organizzare una serie di eventi per coinvolgere quella che è la fascia anziana della città e quindi di creare proprio opportunità e di creare eventi proprio per loro. Per quanto riguarda invece l'asilo, ovviamente l'asilo diventa un punto, è un centro importante per le famiglie paternesi, quindi potrebbe essere, potrebbe rappresentare una bella opportunità. Sarà la città di Catania ad ospitare le riprese del nuovo film di Ficarra e Picone. Dopo la matassa girato fra Catania e Paternò nel 2009, il duo comico ha scelto ancora una volta il capoluogo Tneo. Vediamo. Salvo Ficarra e Valentino Picone, o semplicemente Ficarra e Picone, il duo comico palermitano gireranno il loro nuovo film a Catania. Le riprese inizieranno il 22 maggio e la pellicola sarà già pronta per essere vista a Natale. Sarà ancora una volta il capoluogo Tneo dunque ad ospitare la truppe cinematografica. Infatti nel 2009 Ficarra e Picone hanno girato il film La Matassa proprio a Catania e con tante scene girate anche a Paternò e che ha visto la partecipazione anche di tante comparse locali. Una città, quella di Paternò, che per diversi giorni è stata interessata dalle riprese coinvolgendo l'intera comunità e con i tanti cittadini che hanno voluto assistere dal vivo alle scene registrate, assiepando le strade. Catania quindi si appresta ad essere sede dei set cinematografici che saranno allestiti in diversi punti della città. Le riprese dureranno otto settimane. Catania avrà così un positivo ritorno di immagine a livello nazionale in termini di economia e turismo. Al momento nulla trapela sulla trama del film e chi lavorerà accanto a Ficarra e Picone. Il titolo al momento sarebbe FIC e PIC 8. E' stato registrato in Cina il brand Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia. Lo scopo è quello di sfruttare il mercato cinese e valorizzare gli agrumi siciliani. Vediamo. Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia è il primo marchio collettivo degli agrumi con i brand di Sicilia registrato in Cina. Ad annunciarlo è la presidente Federica Argentati dopo aver ricevuto l'ufficialità del protocollo. Credo che il distretto si sia dotato di uno strumento che possa costituire un punto di forza per tutte quelle piccole, medie ma anche grandi imprese che voglio approdare. Nei mercati cinese ha specificato la presidente. E' stata un'operazione lunga, non semplice. Oggi annuncio con soddisfazione alle imprese della filiera e quindi non solo a quelle di commercializzazione del fresco l'opportunità di utilizzare un marchio ombrello con una chiara denominazione territoriale. Sicilia ha specificato ancora alla presidente Federica Argentati un brand conosciuto ed apprezzato persino in un territorio così distante quale la Cina che deve rappresentare qualità, tutela contro le possibili contraffazioni e per le imprese il giusto ritorno economico. La presidente Federica Agendata ha inoltre specificato che il marchio è di proprietà del distretto e sarà messo a disposizione delle associate. Penso in primis quelle con la certificazione arancia-rossa di Sicilia IGP e quindi l'arancia DOP di Ribera o anche ai tre limoni IGP siciliani, vale a dire di Siracusa, Interdonato di Messina ed Etna. Ma non solo, penso anche ai trasformati o comunque strumenti a supporto della filiera prodotti in Sicilia che potranno utilizzarlo in azione di comunicazione. L'idea del brand Sicilia è nata nel 2017 nel corso di un evento di formazione organizzata dal distretto e rivolta all'impresa della filiera agrumicola siciliana per affrontare appunto il mercato cinese. È l'anno in cui Italia e Cina hanno siglato l'accordo per l'esportazione degli agrumi via nave. Come distretto, ha concluso la presidente Argentati, riteniamo di aver svolto il ruolo a quale siamo chiamati, quello di creare le condizioni, le connessioni, le opportunità, le strategie per la crescita delle imprese e del territorio con l'unico obiettivo di valorizzare le nostre produzioni agrumicole fresche e trasformate. Domani, in occasione della Festa della Mamma in piazza Roma a Biancavilla, ci saranno i volontari dell'AIRC con l'Alzalea della Ricerca. Questo e tanto altro nelle nostre notizie flash. Domani mattina a Biancavilla torneranno in piazza Roma i volontari dell'AIRC con l'Alzalea della Ricerca. Con una donazione si potrà sostenere la ricerca sul cangro, portando a casa una azalea nel giorno della Festa della Mamma. Anche quest'anno a coordinare l'iniziativa di solidarietà sarà la referente locale dell'AIRC, la professoressa Rita Crispi. Con lei saranno presenti nel gazebo, in piazza Roma, anche gruppi e associazioni giovanili del territorio. Diciamo no all'utero in affitto alle madri surrogate, alla mercificazione del corpo delle donne e dei bambini. Non a caso abbiamo scelto la Festa della Mamma per lanciare, anche su Paternò, la raccolta firme a sostegno della nostra proposta di legge. A parlare il deputato nazionale di Fratelli d'Italia, Francesco Ciancitto, che annuncia una raccolta di firme a Paternò per domani in piazza Umberto, dove verrà allestito un banchetto. Poter procreare è un dono, non possiamo utilizzare il nostro corpo come fosse una merce, mettendola in vendita. La donna non è una macchina, un'incubatrice vuota. Dobbiamo avere rispetto di ciò che siamo, dobbiamo avere rispetto della vita, ha detto l'onorevole Ciancitto. Lieve attività sismica sul versante orientale dell'Etna. Da qualche giorno una sismicità di bassa energia sta interessando il basso versante orientale del vulcano, con ipocentri superficiali che li rendono avvertibili dalla popolazione nelle immediate vicinanze. In particolare nella giornata di ieri sono state registrate dalle stazioni più orientali dell'area etnea, tre eventi sismici. Decima edizione di Una vita da social. Si ripropone la più importante e imponente campagna educativa itinerante realizzata dalla Polizia di Stato, cofinanziata dalla Commissione Europea e dal Ministero dell'Istruzione del Merito. Gli agenti del Centro Operativo Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale di Catania, attraverso un trang allestito con un'aula didattica, incontreranno lunedì mattina a Catania, nel quartiere Librino, studenti, genitori e insegnanti di tre istituti comprensivi, allo scopo di educare partecipanti con un linguaggio semplice, esplicito e adatto a tutte le fasce di età sui temi dei social network, del cyberbullismo, dell'adescamento online, sull'importanza della sicurezza della privacy e della sicurezza online. Dai dati in nostro possesso e dagli incontri nelle scuole di ogni ordine e grado che svolgiamo ogni giorno, dichiara il dirigente del Centro Operativo Marcello Labella, si conferma l'estrema importanza delle attività di informazione e sensibilizzazione affinché la rete sia per i ragazzi una grande opportunità e non un limite. Con le notizie flash è tutto, grazie per averci seguito a voi tutti, una buona serata e una buona domenica. Grazie. Grazie.